Com'è la tecnologia? Poi chiaramente la tecnologia oggi si è concentrata, il Lusca.0 è concentrata molto nelle fasi direttamente produttive, bisogna lavorare a monte nelle fasi creative, quindi progettuali, che poi si trasformano in progetto e in produzione e nelle fasi finali in cui appunto forse oggi è possibile lavorare in linea con il principio della sostenibilità ambientale, con il live site design in cui si controlla molto la fase finale, cioè in cui il prodotto viene utilizzato ma viene anche dismesso e nella dismissione la tecnologia può in qualche modo aiutarci anche a raccoglierlo, a riciclarlo, ad utilizzarlo, questo è il tema fondamentale. Ma la capacità creativa rimarrà un valore aggiunto? Assolutamente sì, oggi le frontiere più avanzate della ricerca nell'ambito della computer science sta lavorando proprio su dei tools intelligenti a disposizione della parte creativa, è molto meno interessata paradossalmente alla parte robotica e produttiva perché quella è già avanti, al limite bisogna solo entrare in una logica in cui l'intelligenza non è più puntualizzata, è concentrata nel robot ma è distribuita nello spazio e quindi in realtà ci sono tante periferie ma tanti elementi, un'intelligenza che si ripartisce da una serie di oggetti e quindi c'è una questione che è legata al controllo e alla gestione di questo, ma le questioni che oggi interessano sono proprio quelle che possono in qualche modo creare una customizzazione, una diversificazione nel processo creativo e produttivo messi insieme, cioè un'integrazione molto forte tra le persone.